Un'app per scoprire Sassari con un gioco. E' Guilt di chi è la colpa, un'applicazione ideata e realizzata da Tamalacà, sviluppata da Abinsula e promossa dal comune di Sassari e dalla fondazione di Sardegna. Guilt è un gioco georeferenziato, ambientato in un contesto urbano, e disponibile gratuitamente per smartphone Android e iOS. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco Nicola Sanna, e Elisa Ghisu di Tamalacà e Antonio Solinas di Abinsula. La prima narrazione ludica a disposizione dei giocatori è Il caso della carta scomparsa, ed è ambientata nel centro storico di Sassari. Una storia vincente, un episodio di fantasia ambientato negli anni Sessanta, ma costruito sulla base di vicende reali. Seguendo una mappa e grazie all'utilizzo di GPS e di tag QR, i giocatori potranno fare tappa in luoghi notti, come Palazzo di Città e il Mercato Civico, Piazza Castello e la Biblioteca Comunale. Dopo aver superato una serie di prove, con gli indizi raccolti avranno la possibilità di risolvere il caso. Una seconda storia sarà invece ambientata all'argentiera, e sarà disponibile dal prossimo 26 maggio per la giornata mondiale del gioco. Le storie sviluppate hanno come target bambini accompagnati da adulti. La struttura di gioco si presta però ad accogliere in futuro prove pensate direttamente, anche per adolescenti e adulti. Nel 2016 e nel 2017, in occasione della giornata mondiale del gioco, sempre a fine maggio, si sono svolte le altre due edizioni di Gilt, una vera e propria caccia al tesoro nel centro storico di Sassari. Lo scorso anno parteciperanno 16 squadre per 100 concorrenti.